I carabinieri di Licata, nell'ambito di un'attività di indagine condotta nel proprio comprensorio sulla scorta di specifiche verifiche effettuate negli ultimi giorni a carico di alcuni soggetti della zona, hanno esteso il loro operato in territorio di Riesi, precisamente nella contrada Palladio, per l'identificazione di alcuni soggetti redditi a furti di materiale ferroso e altri tipi di metallo. Nel corso delle investigazioni, in quattro, sono stati sorpresi a smontare, con una fiamma ossidrica, un autocarro in sosta all'interno di una cava di smessa. Alla vista dei militari d'allarme, intervenuti assieme ai colleghi della stazione di Riesi, i malviventi hanno tentato di darsi alla fuga. Tre sono stati bloccati dopo un breve inseguimento e identificati in Gaetano Mazzapica, 23 anni di Riesi, Maurizio Dainotto, 33 anni di Licata e Antonio Mancuso di Licata, mentre un quarto soggetto, ora attivamente ricercato, è riuscito a dileguarsi. Parti dell'autocarro, del peso di qualche tonnellata, erano già state caricate a bordo di un furgone e di una Fiat Panda in uso ai malfattori. Dopo la dichiarazione di stato di arresto per furto, i tre sono stati condotti nelle rispettive abitazioni e agli arresti domiciliari, su disposizione della competente autorità giudiziaria. Ulteriori accertamenti sono in corso per individuare i ricettatori e i luoghi di stoccaggio dei materiali metallici oggetto di furto.